Soprattutto il collega Pestalozza che a dimostrazione della bontà del prodotto tranguggerà 40 chili di formaggio in soli 30 minuti a dimostrazione che quella roba lì è buona, sana, digeribile e soprattutto con il Guinness magari ti porti a casa un paio di migliaia di euro Ho il terrore Gianmarco di farlo perché sono a dieta e lo speravo che tu l'avessi capito dal mio rinnovato look che indosso da questa mattina sulla faccia Il rinnovato look è la cintura gibo Il rinnovato look è una faccia da mal di testa che quando inizio la dieta compro grappa, vino e birra e vado avanti tutta la sera così